Ciao a tutti e benvenuti a TV Royale Finalmente arriverà il livello 14 Abbiamo ridotto la quantità di esperienza necessaria per migliorare i livelli re dal 10 al 13 Arriverà il viaggio delle re che vi mostrerà i vostri progressi e le funzioni disponibili per ogni nuovo livello fino al 14 Quando raggiungerete un nuovo livello re, sbloccherete un baule del nuovo livello che contiene ricompense come carte, oro e gemme Siccome le carte avranno il livello 14, abbiamo fatto modifiche e ridotto la quantità di oro e il numero di carte necessaria per migliorare tra i livelli 11 e 13 E ora cosa c'è? Ma non lavori anche tu qui Potete sapere quanti punti stella avete toccando la barra dell'esperienza in modo da vedere tutti i punti stella invece degli XP o viceversa Una volta raggiunto il livello re 6 Il livello stella 1 si sblocca per le carte a livello 7 Il livello stella 2 per le carte a livello 10 E il livello 3 per le carte a livello 13 Abbiamo diminuito i punti stella richiesti per migliorare i primi livelli stella Diminuisce tutto, chiara la via Arrivano i campioni I campioni sono una varietà che si sblocca a livello re 14 E ne esistono 3 differenti Ciascun campione ha un'abilità speciale Ciascun campione ha un'abilità speciale Ciascun campione ha un'abilità speciale A presto Ciascun campione ha un'abilità speciale Per attivare l'abilità dei campioni dovrete toccare il pulsante apposito. Ne potete avere solo uno nel mazzo perché sono troppo forti. Chissà come li userete. Abbiamo capito, vi serve oro. La rotazione dei bauli provvederà più casse d'oro che troverete anche a livello re 10. Le carte leggendare appariranno più spesso nei bauli. Il nuovo bauli dei jolly non contiene nulla di che. Jolly, oro e un campione assicurato. I giocatori a livello re 14 troveranno un campione assicurato di questi. Troveranno anche un bauli insieme ad altre grandi ricompense. E non è tutto. Troverete questo bauli tra le varie soglie del pass royal. Se un membro del clan acquisterà il pass royal riceverete più oro in base al vostro livello re. Per organizzare le vostre carte, ora vi basterà tenere premuto di esse e trascinarle dove vorrete. Per copiare i mazzi direttamente da registro attività al tv e per non perdere tempo. D'ora in poi, per tutti i partecipanti da una sfida a un torneo, le carte saranno impostate a livello 11. Nei tornei globali potete creare un mazzo scegliendo tra tutte le carte in gioco, incluse quelle che non avete ancora sbloccate. Oh, e finalmente il mio primo tv royale finisce qui! E noi non ci vedremo all'arena, ma al prossimo video. Ciao!